E' la notte dei sogni, della sintesi, forse di tutti i sentimenti più forti del calcio, dello sport, della vita, tante storie. Tante stelle ha compronto questa notte. Non è e non può essere una serata come le altre. Per molti dei giocatori che ora sono lì in campo, una partita così può dare senza una vita. E adesso pronti a partire, sta per cominciare una grande sfida. Utilizziamo un po' di coraggio, un po' di coraggio, mi raccomando. Brava Rihanna, un po' di coraggio. Ok. L'unico obiettivo che hai per far gol è che devi entrare per forza in area. Quindi tu puoi fare 100 skills, l'importante è che ce ne sia almeno una di quelle che abbiamo visto. E il gol deve essere dentro l'area, se tiri da fuori non vale. Ok. Ottimo, Fede. Andiamo allora. Andiamo. Possiamo far gol dentro l'area. Ottimo, Fede. Andiamo allora. Andiamo. L'importante nel dribbling e quindi nel fare le skills è eseguirle velocemente. Andiamo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info www.mesmerism.info